Proseguono anche nel nuovo anno le conversazioni di storia locale, ciclo di incontri giunto alla sesta edizione organizzato dalla Biblioteca La Magna Capitana per approfondire alcuni temi, personaggi ed eventi storici del territorio. Il 10 gennaio si parlerà di Bernardino Mario Frascolla, primo vescovo di Foggia nella nuova Italia liberal massonica. Con il taglio divulgativo e partecipato, sempre aperto agli interventi del pubblico, la conversazione ripercorrerà la biografia di un uomo coerente con le sue idee e la sua cultura. Le conversazioni proseguiranno il 21 febbraio, quando si parlerà degli scultori pugliesi del Novecento nei monumenti ai caduti di Capitanata. Incontro successivo il 14 marzo, quando si terrà una relazione dal titolo Foggiani alleati, storie di un'inevitabile convivenza. Penultimo incontro il 18 aprile con Carmine De Leo, presidente dell'Associazione Amici del Museo e sulle antiche corti di giustizia della Capitanata. Incontro conclusivo il 16 marzo, quando si parlerà del Bonghi del primo Ottocento, una famiglia dell'elite lucerina.